Le categorie economiche che si occupano della gestione demaniale in ambito turistico hanno incontrato martedì 18 gennaio l'assessore al turismo della Regione Veneto, Federico Caner. L'assessore ha illustrato la proposta che il Veneto intende presentare al Governo, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, esito della direttiva Bokestein. Oggi abbiamo incontrato le categorie economiche che si occupano di gestione demaniale, di fatto in ambito turistico ricreativo, per illustrare quella che è la proposta del Veneto al Governo in tema di concessioni demaniali. Noi di fatto vogliamo riprendere quella che è una normativa già esistente, la legge 33 della Regione, che riconosce il valore commerciale delle aziende, che riconosce gli investimenti che sono stati fatti da parte dei concessionari e che soprattutto va a proporre in tema di gare quelli che sono i prossimi investimenti che i concessionari potranno fare e che vengono inseriti in termini di priorità per assegnare la concessione. Inoltre abbiamo inserito il tema dell'avviamento, che non è mai stato considerato e che per la prima volta in una legge si vede. Abbiamo accolto con favore l'invito dell'assessore Canerci, è stata illustrata questa proposta di Regione del Veneto, trasmessa nei giorni scorsi al Ministro Garavaglia. La proposta ci convince perché rispecchia quello che da sempre è il DNA dell'imprenditoria turistico balneare di questa Regione. Si parla di investimenti, si parla di innovazione, si parla di tutelare le professionalità acquisite, ma soprattutto si parla di riconoscimento del valore aziendale, di indennizzo, di avviamento. I balneari del Veneto da sempre sono custodi premurosi e attenti di quello che è un bene pubblico, le spiagge della nostra meravigliosa Regione, ma è bene ricordare che le aziende che insistono su quelle spiagge sono state costruite con anni di sacrificio e con tanti investimenti e quindi è giusto tutelare i concessionari uscenti che anche in questa occasione non si tireranno indietro e sono pronti a fare la loro parte.